L'AS Roma 3 oggi fa un omaggio, un regalo ai pazienti che si presentano alla Casa della Salute per effettuare delle analisi del sangue. Cosa consiste? Consiste essenzialmente nell'offrire una colazione, grazie anche alla collaborazione dei bar di cignori alla Casa della Salute, una colazione classico cappuccino, caffè e cornuto a quanti hanno appunto sostenuto il prelievo di sangue. Ecco, cosa devono fare i pazienti nella sostanza? Fatto il prelievo, si presenteranno appunto nei bar vicino alla Casa della Salute con il loro buono, faranno colazione, cappuccino, caffè e cornetto dopodiché sarà problema nostro, nella nostra organizzazione appunto rapportarsi con il bar. La Casa della Salute si conferma uno dei punti di riferimento per la sanità del litorale romano. Quanti sono mediamente i prelievi che vengono effettuati in questa struttura? I prelievi non meno di 120, non meno di 120-130 al giorno. Ed è un'offerta ad ampio respiro, anche sotto il profilo della specialistica? Sì, sicuramente, sicuramente. Noi siamo assolutamente convinti, come lo è la direzione generale guidata dal dottor De Salazar, ma anche la direzione sanitaria, la direzione di dipartimento, che dare per essere vicini a un paziente, a un cittadino, non significa dargli soltanto il meglio dell'assistenza clinica, ma dargli anche il meglio per quello che riguarda l'accoglienza, per quello che riguarda l'empatia, per quello che gli dargli le giuste informazioni. Quindi cerchiamo da questo punto di vista di collaborare con il paziente stesso, non soltanto per il suo problema, diciamo pure patologico, del suo problema clinico, quindi l'assistenza attraverso i percorsi diagnostici terapeutici, le visite specialistiche, ma soprattutto anche per quelli che sono i servizi, chiamiamoli così, di accompagno dello stato del paziente.